Guarda, noi cercare ragazzi giovani, soprattutto con capacità di collaborare insieme. Io dico sempre ai ragazzi delle stagie che prima cosa tratta questo come un colloquio di lavoro, perché magari un domani se fai bravo mi fa vedere che ce l'hai tutte le cose che mi serve per tirare avanti i nostri locali a collaborare con noi. Ci sono le possibilità nel futuro che io posso magari anche assumerlo. Per favore, vai sempre tu o meglio, arrivo pulito, porta il block notice per scrivere ricette, cioè qualsiasi cosa che va in automatico, cioè da un cuoco, da un vero chef, io non devo chiederti, tu devi darmi a me, di tu. Sono uguale, cioè trattato come se fosse un dipendente vero, voi magari ce l'hai un logo sulla giacca, da Gald, so qualcosa, però per noi non vuol dire niente. Quando sei qui, dal momento che entri nel nostro locale, sei un parte del team per imparare e per migliorare la vita sua, cioè una bella esperienza per tutti noi e per sopra loro. Io direi a tutti i miei stagisti, pure anche avanti stati, è, cioè, questo è per te. Questo lavoro ti apre il mondo, cioè, tu se vuoi lavoro dentro un locale, dentro un ristorante, una cucina, cioè, arrivo puntuali, ordinati, block notice, e tu ascolta lo chef, tu ascolta me, se stai lavorando con me, tu ascolta lo chef, capito? Grazie a tutti i miei stagisti,